ciao e benvenuto oggi vediamo come scrivere una parte di batteria a computer evitando così di usare i soliti loop e groove che troviamo online e che possono usare tutti tutto quello di cui abbiamo bisogno è un virtual instrument di batteria e un mouse si hai capito bene con un mouse proveremo a ricreare tutte le nuance tipiche di un batterista andiamo a vedere prima di iniziare vediamo come ho impostato questa sessione ho creato una traccia aux stereo nella quale ho inserito negli insert un plugin di batteria quindi virtual instrument in questo caso è stevens late drums 5 ho poi creato una traccia midi e negli input output ho assegnato l'uscita alla traccia aux appena creata ho creato una traccia click dal menu track create click track cambiando il tempo da 120 a 80 e ho creato una traccia master per vedere il livello di uscita i metodi per scrivere una parte strumentale sono essenzialmente due possiamo farlo col mouse o con una tastiera midi in ogni caso dovremo seguire una mappatura ben precisa cioè ogni tasto della tastiera midi corrisponderà ad un pezzo del kit della batteria ad esempio la cassa starà sempre di default sul tasto c1 quindi il primo tasto a sinistra di una tastiera a 61 tasti il rullante starà sul re e mi successivi quindi d1 e 1 da f1 quindi dal fa al do successivo f1 g1 a1 b1 e c2 saranno i tom sempre su questa prima ottava fa diesis sul diesis la diesis saranno tre articolazioni diverse del charleston quindi fa diesis charleston chiuso charleston a pedale sul sol diesis chiuso col pedale e la diesis charleston aperto nell'ottava successiva cioè quella sotto il do centrale della tastiera avremo generalmente i piatti solitamente il crash è messo sul do diesis 2 quindi c diesis 2 in base alla programmazione che fanno i vari produttori si può trovare anche da altre parti in questo caso con steven slate non ho esattamente un crash pieno ma qualcos'altro un'altra articolazione i crash li trovo su g2 a2 quindi sul sol e la dovrà tenerle conto quando scriverò la parte ora suonerò il ride è sempre su re 2 diesis quindi su re diesis di questa ottava quindi di diesis 2 e sul f2 il fa o la campana ora la premia prima cosa da fare è aprire un midi editor o piano roll quindi menu window midi editor qui abbiamo il classico appunto piano roll pianoforte in verticale e tempo iniziamo sempre a scrivere dalla misura 2 perché se iniziamo dalla 1 quando esportiamo il file non avremo un minimo di spazio di tempo prima dell'inizio per permetterci di ascoltare esattamente l'attacco delle prime note che suoniamo quindi col mouse in griglia assoluta cioè scriviamo sempre all'inizio perfetto dei nostri sedicesimi quarti o ottavi sulla misura 2 che è questa 2 3 e 4 qua abbiamo la linea verticale più scura che ci dà la battuta e poi abbiamo alcune linee verticali un po più leggere comunque marcate che sono i quarti quindi abbiamo infatti 1 2 3 4 1 2 3 4 perfetto ora per scrivere una batteria iniziamo proprio dalle basi cioè ogni tasto della tastiera midi corrisponderà a un pezzo del kit della batteria ad esempio il c1 il do 1 sarà il kick la cassa ora lo cerchiamo qua e abbiamo due vuol dire c21 c1 quindi qui questo qua sarà la cassa e la mettiamo direttamente sul battere voilà la cassa la metteremo su 1 e 3 quindi 1 2 3 e 4 quindi tu pa tu pa contiamo sempre 1 2 3 e 4 anche le sillabe perché ci danno un riferimento ritmico in più molto importante ci servirà anche per scrivere questa parte di batteria tra l'altro cioè abbiamo messo adesso la cassa sentiamo da qui 1 2 3 e 4 il rullante andrà sempre sul 2 e sul 4 quindi qui e qui dove lo troviamo lo troviamo come mappatura se il do sta per la cassa il re e il mi successivi quindi 3 e mi 1 saranno il rullante in due articolazioni in questo caso diverse quindi 2 e 4 quella sul mi ha un po più di snap perché è intesa come prendere il rullante sia con la punta della bacchetta sia col bordo insieme quindi mettiamolo qui abbiamo più snap adesso abbiamo scritto i quarti 1 2 e 3 e 4 manca il charleston che è quello che ci dà un'altra vittimica molto importante che lo metteremo su tutte le sillabe quindi 1 2 e 3 e 4 battere e levare quindi insieme alla cassa ma anche tra un colpo di cassa e un colpo di rullante e viceversa cioè 1 2 e 3 e 4 a metà preciso sentiamo da qua è scritto giusto correttamente abbiamo 1 3 per la cassa 2 e 4 per il rullante e tutti gli ottavi per il charleston ma suona robotico molto freddo innaturale meccanico come se fosse una macchina effettivamente l'abbiamo scritto con un mouse in un computer non c'è un batterista che suona purtroppo ma come possiamo fare a ingannare l'ascolto cominciamo a variare un po la dinamica dei colpi vedete che qua sotto abbiamo questi pallini queste linee sono tutte uguali e rappresentano la velocity quindi la dinamica dei singoli colpi che io ho appena scritto quindi cassa vedete che qua e cassa bene selezioniamo tutti e due i colpi di cassa e alziamo posizionandoci col mouse vedete che abbiamo la manina perfetto teniamo premuto alziamo e portiamo il volume più in alto sentite che è cambiato anche il suono da così a così molto più presente molto meglio idem per il rullante lo alziamo un po quindi avremo decisamente meglio il charleston è un po spento perché noi dobbiamo pensare come sono un batterista non cosa dobbiamo fare noi a computer in questo caso noi stiamo facendo una batteria acustica quindi dobbiamo pensare come un batterista il batterista e mi perdonino i batteristi il primo colpo lo da di polso o di braccio comunque con tutto il peso del braccio e del polso correggetemi ok il secondo solitamente non viene dato con lo stesso movimento ma viene dato di ritorno da quanto ho capito parlando con colleghi batteristi quindi il ritorno si dà con le dita il secondo colpo è naturalmente più basso di volume quindi è tat 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 non tat 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 corretto quindi seguendo questa logica tutti i colpi in levare quindi quelli a metà tra cassa e volante devono essere abbassati ancora un po e soprattutto anche i colpi iniziali quelli sul battere andranno alzati un po molto meglio senza metà ci siamo abbiamo un groove un po più ritmico ma abbiamo ancora quella sensazione un po meccanica perché tutto perfettamente tempo ho scritto tutto in griglia assoluta volutamente per essere preciso sul tempo un modo per dare ancora più dinamica e più realismo a questa parte di batteria e spostare la posizione in sleep mode ad esempio teniamo la cassa sul battere preciso perché quando farò una copia di questo group questo colpo se io lo spostassi prima lo perderei spostiamo invece il charleston un pochino più avanti qua facciamo la stessa cosa questo lo mettiamo un pochino prima e qua abbiamo perfettamente a tempo no mettiamo un po prima questo è un po dopo il rullante poi questo lo spostiamo leggermente qua possiamo anche permetterci di fare prima il charleston e poi la cassa da sentire che veramente qualcuno sta suonando se metto prima la cassa alta il charleston più basso comunque non lo sentirò invece se faccio il contrario sembra quasi che il batterista stia effettivamente andando un po fuori tempo o comunque sia un po più umano di una macchina sentiamo così spostando un po tutto molto meglio molto più gruva ora possiamo anche copiare questo comandi oppure copia incolla e andiamo a modificare un'ultima cosa la dinamica dei singoli colpi vedete che qua è tutto uguale tutto forte tutto piano qui invece io voglio che il charleston suoni un po più vero quindi cominciamo con i colpi in levare e abbassiamo li alziamo come ci gira e diciamo che in fondo due battute posso anche permettermi di alzare un po il volume e in griglia non assoluta ma relativa cioè mi sposta questo colpo sui sedicesimi in ottavi mantenendo questa imperfezione che in questo caso mi è fondamentale quindi lo sposto vedete che se lo metto qua ad esempio lui mi mantiene questa impostazione ecco torniamo indietro lo mettiamo però sul charleston aperto e gli diamo appunto un po di volume in più quindi fatto elevare del charleston faccio anche il battere diamogli un po più di anche ovviamente il rullante è tutto uguale e non va bene vogliamo dargli un po più di realismo molto meglio così se metto in loop è molto meglio come posso dare però un po più di movimento a questa parte spostiamo il colpo che c'è sul tre che uno due e tre e quattro lo mettiamo sul tre e quattro sempre in griglia relativa zoomiamo e spostiamolo qui vedete che appunto spostandolo ho mantenuto la posizione in precisa che mi interessava di prima molto meglio se poi decidessi di giocare anche con un altro colpo di cassa e mettergli uno in più l'importante è che lascio il due e quattro con il rullante l'uno della cassa sempre per iniziare intendiamoci e poi giocare in mezzo con cassa e le ghost notes del rullante adesso le vediamo prima sentiamo questa cassa molto meglio come dicevo le ghost notes quindi colpi di rullante molto più bassi di volume che danno groove ovviamente più basso perché se lo lascio così a me così non dà molto groove lo ferma invece ovviamente questo è l'articolazione col bordo a me interesse invece solo il colpo della punta sulla pelle quindi cambio il tasto torno sul re anche qua stessa cosa ma gli cambio gli vario ovviamente il risultato finale dipende da diversi fattori in primo luogo il virtual instrument che usate se usate una batteria poco dettagliata non avrete tutti questi livelli di espressione in secondo luogo la qualità della vostra programmazione midi il fulcro sta nel pensare come il musicista che stiamo emulando se è un batterista non potremo usare sei colpi tutti insieme perché gli altri ad esempio sono quattro quindi una cassa un rullante due piatti si possono fare due piatti rullante e charleston si possono fare ma due piatti rullante charleston e due tom decisamente no altra cosa importante per una batteria in questo caso acustica l'imperfezione i colpi non tutti uguali il tempo un po spostato non preciso questo fa molto live inganna molto l'ascolto ovviamente invece se parliamo di batte via elettronica è tutto un altro discorso ma questa la vedremo in un altro video prova e fammi sapere come va e se ti fa piacere mandami un link a qualche tuo lavoro come sempre ti invito a scrivermi nei commenti per qualunque domanda dubbio richiesto suggerimento e iscriviti a questo canale ciao a prossimo video